Molti francesi erano intossicati e morivano, alcuni riuscivano a farcela, ma poco dopo diventavano neri in volto, tossivano sangue e cadevano a terra. Così scriveva il Daily Chronicle il 22 aprile 1915, dopo che 6.000 uomini morirono in meno di 10 minuti. Erano le vittime del primo impiego massiccio di armi chimiche nella storia militare, e ci troviamo a Ypres in Belgio. Da lì a poco, tutti gli schieramenti militari utilizzarono queste armi chimiche, e il bilancio in vita umana fu terribile. Tre anni dopo il primo evento, Ewar Stresi, un maggiore dell'esercito, scattò questa foto. L'uomo in primo piano sembra soffocare mentre cade a terra. Sono gli effetti dei gas tossici, ma in realtà questa è solo la rappresentazione di una messa in scena, utilizzata per far capire alle reclute quale destino le attendeva se non avessero rispettato l'ordine di indossare le maschere anti-gas. Di sicuro un'immagine è valsa più di mille parole.